Dopo un anno torna a riunirsi l'attivo unitario, quali saranno le prossime tappe di questa avvertenza? Io credo che dagli interventi che sono venuti fuori ci sono delle idee che sicuramente dovremmo tenere in considerazione. La prima è quella che dopo che ci saranno avremo un pochettino più chiara la situazione anche rispetto agli incontri che l'azienda sta avendo con i vertici della regione per cercare di capire se è possibile poter effettuare ancora un periodo di ammortizzatore sociale. Sicuramente quando avremo queste informazioni faremo in primis le assemblee per informare tutti i lavoratori su come stanno procedendo i lavori. Io credo che una manifestazione che alzi un po' l'asticella della preoccupazione sindacale io credo che ne dovremmo cominciare a parlare. Sì infatti questo era un tema uscito anche durante gli interventi qualcuno sottolineava che i lavoratori della Pilkington diranno vabbè tanto la Pilkington è sempre andata avanti e non si rendono conto dell'attuale situazione. Beh sì noi abbiamo cercato, sì questo è un tema che purtroppo nel DNA dei lavoratori del gruppo della Pilkington proprio perché storicamente lo ricordavo anche io nell'intervento noi non abbiamo avuto mai un caso di un lavoratore che se non fosse per giusta causa abbia perso il posto di lavoro proprio perché ci siamo sempre cervellati a cercare di trovare soluzioni. Però il fatto che questa tensione non sia abbastanza alta e quello che preoccupa che ho sentito da qualche intervento è che il lavoratore si guarda e lo traduce non mi interessa perché non riguarda me è un tema che comunque ci deve far riflettere un pochettino tutti anche su che tipo di società vorremmo domani. Sicuramente questa non è la società che voglio io, la società che intendo io è una società che sia solidale con chi sta per perdere il posto di lavoro, credo che tu abbia sentito che ci siano venute fuori anche proposte di autotassazione per poter dare aiuto. Sono tutte cose che sono messe sul tavolo. Noi le dobbiamo valutare e dal mio punto di vista, lo ricordavo pure qualcuno, il tema perché credo che alla fine poi una soluzione tra le mille cose noi la troveremo. A me quello che preoccupa è il fatto che questi alti e bassi di mercato sono preoccupanti, soprattutto dai dati che sono venuti fuori ieri dall'osservatorio nazionale del vetro dove le aziende, soprattutto chi rappresenta le aziende del vetro in Italia che ne sono oltre mille e rappresenta 23 mila lavoratori, è un tema complicato. Stiamo vedendo i cali di mercato, i cali di vendita di auto, soprattutto nel riflesso dei nostri fratelli che sono quelli che lavorano il vetro cavo, ci siano problemi anche da quelle parti.